Questa mattina, prima di recarsi nella piazza di Gwangwamun per la beatificazione di 124 martiri coreani, Papa Francesco si è raccolto in silenzio e preghiera davanti al Santuario dei Martiri di Seo-Sumun, dove è stato martirizzato He-Seong-Hu, il primo battezzato della Chiesa Cattolica Coreana. In questo luogo inoltre sono stati martirizzati 44 tra i primi 103 santi martiri e 27 dei 144 martiri beatificati oggi dal Papa. Attualmente il Santuario dei Martiri di Seo-Sumun è composto da un parco con un monumento ai martiri, dove è scolpita la passione del loro martirio. Bagno di folla questa mattina è in piazza Gwangwamun per Papa Francesco. Secondo le autorità cittadine sono un milione le persone scese per strada a Seul e che hanno riempito Gwangwamun, la seconda piazza più importante e più grande di tutto il continente asiatico, dopo piazza Tiananmen di Pechino. Lasciata l'utilitaria, il Papa è salito sulla Papamobile e ha cominciato a girare per la piazza salutando le migliaia di persone che sono venute qui per stringergli una mano, scattare una foto con lui, fargli accarezzare e baciare un bambino con l'aiuto delle guardie del corpo o semplicemente vederlo passare. Sulla mantellina il Papa questa mattina aveva il nastrino giallo che qui è simbolo di lutto per le vittime del traghetto Seohul, naufragato in aprile. In piazza ci sono anche 400 familiari delle vittime che da giorni manifestano proprio in questo luogo per spingere il governo ad aprire un'inchiesta. Su un grosso striscione hanno scritto Noi vogliamo la verità. Il Papa è sceso dalla Papamobile e li ha salutati. Un uomo gli ha parlato tra le lacrime e gli ha dato un bigliettino giallo. Il Papa lo ha ascoltato, gli ha preso le mani, poi sempre tra le lacrime. L'uomo lo ha ringraziato dicendogli in inglese grazie. A concelebrare con il Papa c'erano 100 vescovi e 1900 sacerdoti. L'esempio dei martiri ha molto da dire a noi che viviamo in società dove accanto a immense ricchezze cresce in modo silenzioso la più abbietta povertà. Dove raramente viene ascoltato il grido dei poveri e dove Cristo continua a chiamare, ci chiede di amarlo e servirlo tendendo la mano ai nostri fratelli e sorelle bisognosi. Lo ha detto Papa Francesco durante quello che era uno degli appuntamenti più attesi di tutto il viaggio in Corea del Sud. Se eseguiamo l'esempio dei martiri e crediamo nella parola del Signore, ha spiegato il Pontefice, allora comprenderemo la sublime libertà e la gioia con la quale essi andarono incontro alla morte.